Quest'anno in visita all'ospedale di Prato, Babbo Natale ha il viso giovane e rassicurante del capitano della Compagnia dei Carabinieri di Prato, Sara Pini. Accompagnata da due militari in alta uniforme, l'ufficiale ha consegnato i doni offerti dai commercianti pratesi ai bimbi e alle loro famiglie ricoverati in ostetricia e in pediatria. Una bella sorpresa che ogni anno il Centro per i diritti del malato organizza per i pazienti più piccoli del Santo Stefano e per le loro mamme. E dato che il 2014 è stato un anno speciale per l'arma dei Carabinieri perché ha festeggiato i 200 anni dalla fondazione, Babbo Natale non poteva che essere interpretato da un alto rappresentante della benemerita. Il giovane capitano Sara Pini, arrivata al comando di Prato dopo l'estate, ha accettato volentieri l'invito di Fabio Baldi, presidente del Centro per i diritti del malato. Ed eccola a girare tra i letti dell'ospedale, perfettamente calata nel ruolo di Babbo Natale, senza barba e senza slitta, armata solo di un sorriso dolcissimo e del mantello dell'arma come segno di vicinanza alla cittadinanza.